Un artista è un lavoratore la cui indole corrisponde al suo destino. Siamo di fronte a un mandato. È stato inviato per imparare ad amare, a vivere, ad ascoltare la gioia e il dolore del mondo, a farli propri con un processo empatico e incredibile e a ricondividere emozioni generando catarsi. L'artista vede, sente la bellezza e non può fare a meno di condividerla, di farla vedere, sentire, non può fare a meno di divulgarla, anche facendo capire che tutti siamo perfettamente in grado di comprendere e siamo unici e speciali. E contiamo altro che se contiamo, noi siamo la storia. Poco importa se questa immensa bellezza la mette in musica, o la dipinge, la scolpisce, la canta o la racconta. Dio benedica gli artisti!